Buongiorno a tutti carissimi amici, oggi facciamo un video un po' serio, parlando di un argomento sul quale sono ritornato parecchie volte in passato. Mancano 15 giorni, 15 giorni direte voi a cosa? Alle ferie? No, 15 giorni esattamente per il verdetto di Cassazione per Antonio Logli. Vedete, questa è una vicenda che ho seguito molto in passato, che non solo ha appassionato me, quando ha appassionato un po' tutta l'opinione pubblica, perché la sparizione di Roberta Ragusa è stata qualcosa molto seguito sui social, che ha turbato le anime di tante persone, perché una mamma così premurosa, una bella donna che scompare nel cuore della notte e di cui non si hanno più tracce, è qualcosa di sconvolgente. Di solito è ovvio che faccia una brutta fine, ma quando viene ritrovato il corpo, ebbè, si ci fa, insomma, una ragione e si viene a un dunque. In questo caso è un caso un po' strano, perché il marito, come sapete, Antonio Logli, è stato contannato in primo grado e poi in secondo grado ha 20 anni di carcere in quanto ha patteggiato, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, scusate, non ha patteggiato, dito abbreviato, dito abbreviato, altro che patteggiato. Insomma, lui si dichiara completamente innocente. Quindi io ho avuto modo, su questo caso, di dire la mia in passato e sono molto combattuto. Se io fossi un giudice sarei veramente molto combattuto, perché, vedete, io credo che in punto di diritto, proprio in punto di diritto, visto che io sono un cultore di diritto, è strano che una persona possa essere condannata in assenza, non dico di prove che non ce ne stanno, ma addirittura in assenza di indizi, in assenza di testimonianze concordie e credibili. Perché i testimoni, i testimoni di questo caso, sono testimoni destituiti di qualsiasi fondamento, personaggi strani ed improbabili. Però, d'altro canto, devo dire che, dal punto di vista logico, anche formale, logico, di buon senso, non può essere stato che lui a far sparire la moglie, quindi ad ucciderla e far sparire il corpo. Se questo ne sono convinto io, come sono stati convinti i giudici di primo e secondo grado, ma non si è riusciti, secondo me, ad incastrare le prove affinché questo processo sia un processo del tutto regolare. Si dice che quello non ha avuto, il logico non ha avuto il tempo, non si è trovato il corpo, eccetera eccetera. Su questo, sul fatto del tempo e delle ipotesi che si sono fatte, io le trovo comunque fu di luogo, fu di luogo perché non è vero che queste ipotesi fantasiosi, il cimitero, l'inceneritore, ma figuriamoci se una persona che comunque non è un serial killer, una persona che si trova ad aver compiuto un atto del genere, va a fare queste ipotesi. Se è maturato il diritto nella notte, egli comunque fino alle sette di mattina, sette e mezza di mattina, ha avuto tutto il tempo per far sparire il corpo. E come si fa a sparire il corpo? Ma è meno difficile di quanto si voglia credere, perché il gello, se vedete, è un territorio, si può dire in aperta campagna, c'è campagna, c'è tesa, domunque, comunque. Basta mettere un corpo anche in macchina e trasportarlo, ma anche di poco, anche di qualche centinaia di metri, anche di un chilometro, quello che sia, e fare una semplice bura anche solo di 50 centimetri o di un metro di profondità, una volta che tu l'hai coperta, in un terreno qualsiasi, l'hai coperta, l'hai rassodata, metti foglie, eccetera, eccetera, la, specie col passato del giorno, assolutamente non trovi più tracce, quindi non è che ti puoi andare a scavare milioni di chilometri quadrati di terreno, quindi voglio dire, si porterà con sé poi questo segreto. Però, d'altra parte, questo diciamo è l'ipotesi, perché si dice è scomparsa, se ne andate di casa, ma non diciamo sciocchezze su questo, perché una donna che ha un appuntamento con un fantomatico amante, eccetera, non è che se ne va nel cuore della notte, non è che interrompe la lista della spesa che sta facendo a metà, anche senza finire di scrivere, per l'improvviso scappare via nel cuore della notte, non avviene così, e nemmeno avviene che magari ha scoperto in quel momento il marito che conversava a telefono, ha capito chi era e quindi esce di casa e che fa? Dopo mezzanotte esce, trova all'improvviso una persona che passa così con la macchina e si mette dentro e sparisce, sono delle ipotesi del tutto fantasioso e la realtà di solito è molto più formale di queste ipotesi qua. D'altronde però c'è anche da dire che quelli che sono i testi d'accusa, quindi quelli che sono coloro che dovrebbero inchiodare il loyal e le sue responsabilità sono secondo me coloro invece, sono i punti deboli, cioè coloro sono testi a difesa dell'oggi alla fine, perché? Perché ci sta questo Loris Gozzi che è un personaggio, un giostraio, un personaggio con molti precedenti penali, uno che non ha nessun tipo di affidabilità, il suo racconto che poi è maturato mesi, mesi e mesi dopo, non so, sette, otto, nove mesi dopo, che poi l'ha aggiustato nel corso del tempo, è qualcosa di poco credibile, poco credibile e non solo, anche quello che dice, ma soprattutto che la mattina dopo sarebbe andata a casa sua il vicino di casa, il loyal con una fotografia stampata al computer, dicendo tu hai visto la mia moglie, questa, ma che senso avrebbe avuto? Cioè, se uno fa parte dei vicini di casa, io non è che ti posto una foto di mia moglie per farti vedere chi è, è normale che coloro che abitano nei dintorni sanno esattamente chi è Roberto Tadagosto, non c'è bisogno della stampa, ma poi è stata anche accertata che questa famosa stampa fatta al computer aveva stampato il figlio all'uscita della scuola, quindi dopo le 14, le 15, quindi la mattina non poteva essere che il loyal si fosse regata a casa del Gozzi, quindi basterebbe questo per mettere in dubbio tutta la vicenda, poi si è voluto per forza ingastrare questa testimonianza del Gozzi con una testimonianza di un'altra signora che è una signora con problemi mentali, la cosiddetta Pian Piani, che ovviamente è rimasta ai margini perché è una, perlomeno è una psicolabile, ma per quella che si è vista e quella che ho letto in effetti, parla di aver vista e non aver vista, di essere andato due volte di notte alla farmacia notturna e di questi suoi spostamenti ovviamente questa farmacia notturna non ne ha alcun tipo di ricordo, ma non si può basare una testimonianza tanto importante su quello che dice una donna che ha dei gravi problemi, come pure un anno e mezzo dopo usce fuori un ex vigile del fuoco e dice no ma io voglio dire che passando quella sera vedi una donna uscire con il pigiama rosa, quello che in effetti poi si diceva sui giornali, sono dei millantatori che finiscono per essere dei punti a favore dell'Antonio Loggi, dei punti a favore e non contro. Certo sono emesse pure delle cose particolari che questa figura dell'amante che certamente aveva un ascendente molto forte sull'Antonio Loggi, tant'è vero che gli faceva fare quello che voleva, come è emerso anche dalle intercettazioni della figlia che in effetti a difesa della mamma si pone contro questa amante del padre, però io credo che essa non abbia in effetti un duolo attivo nella vicenda, ma un duolo di plagio sicuramente questo sì. Antonio Loggi in effetti la posizione è questa, la posizione è questa di una persona che credo alla fine sia colpevole perché Roberta Ragusa non aveva né nemici né niente, era una persona normale, una mamma di figli, non si può credere sempre che scenda diciamo qualcuno dall'alto, da qualche altro pianeta e prelevi la persona, alla fine quando il buonsenso prevale, l'unico che poteva e aveva motivi è il marito che credo alla fine sconterà questa pena, però dal punto di vista proprio tecnico di diritto credo effettivamente che i giudici della Cassazione si troveranno in grande difficoltà perché quello che è emerso dalle cosiddette prove, dai cosiddetti testimoni non è, non è niente, niente di provato, un indizio molto labile, anche tutta quella serie di intercettazioni si possono interpretare in un modo, si possono interpretare in un altro modo, si può dire che è stata una persona che è stata una persona contro diciamo la buona fede della moglie, ma lo si può censurare da tutti i punti di vista, ma fatto sta che quando si deve parlare di omicidio si deve parlare di prove, quindi questo è quanto, vedremo cosa succederà il 10 di luglio, adesso tra poco, sarà una bella sentenza, certo se non dovesse confermare i vent'anni e quindi rifare la sentenza di secondo grado, quindi l'appello, non so cosa altro potrebbe emergere, perché là è un qualcosa che l'oglio si è fatto o fatto da solo, quindi non c'è da temere che qualcuno confessi, vedete quando si fa parte di una banda, non so di 10 persone, di 5 persone, col tempo basta che confessi uno e cade tutto l'apparato, invece qua parliamo di una persona che si è fatto, ha fatto tutto da solo, allora il segreto se lo porterà ecco nella sua tomba eventualmente e quindi non credo che cambierà di molto la vicenda. Vabbè fatemi sapere che cosa pensate di tutto ciò, le vostre opinioni, magari farò un altro video proprio nell'imminenza dell'uscita di questa sentenza, però ecco vi chiedo non nei commenti di luoghi comuni, di dire per me è colpevole che brutta faccia che ha, lui è sicuramente lui, no non è lui, ma vediamo un po' di argomentare sul fatto che se è importante la prova, la prova giuridica, la prova giuridica di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio per Antonio Loglio, oppure questo ragionevole dubbio possa essere superata dal buonsenso, dal fatto di una mancanza totale di alternative al delitto commesso dall'ogli, insomma questo è veramente il dramma giuridico a cui sono chiamati a rispondere i giudici stessi. Grazie a tutti, a rivederci, iscrivetevi al canale, fatemi sapere il vostro giudizio e il vostro commento. Ciao!